Eccoli qua, tutti i bimbi del coro dell'Antoniano! Facciamo un grande applauso, eccoli! Facciamogli un applauso, metto, metto, metto! Eccoli qua, piano, piano! Faccio un pochino, grazie! E' il cocodrillo! E' il cocodrillo? Come fa il cocodrillo, ragazzi? Il cocodrillo, come fa! Allora, eccoli qua, adesso vi facciamo fare, io nel capo vi facciamo fare tutto il giorno e vogliamo farvi vedere tutti i bimbi del coro dell'Antoniano su un recasso del festival di San Ero, una roba che bello che so! Venite, venite! Piano piano da questa parte, venite, venite, venite! Bravi! Il coro dell'Antoniano che compie, il grande coro dell'Antoniano che compie, pensate, 60 anni questa sera! Ospiti, a cantare, nella terza serata, nel festival di San Ero e Bocano Conti, gli avvoluti! Sono stuberti! Eccoli, eccoli! Eccoli, eccoli! Eccoli qui, guardate, quanti sono! Sono le più piccine, vanno! Eccoli, eccoli! 5 anni appena compiuti! Appena compiuti! 5 anni appena compiuti! Allora, venite, mettiamoci qua così ci facciamo vedere, bene? Da tutto il pubblico che è qui con noi sul recato, venite, venite pure, venite, venite! Eccoli qua! Vedetevi pure l'informazione qui, come volete, facciamo anche una foto, tutti insieme, vi facciamo fatelo pure! Qua c'è, no, vedete qua, vedete pure qua, vedetevi pure qui, davanti qui, ok? Adesso arrivano gli altri, eccoli che arrivano tutti, facciamo una bella foto qui davanti al diadronalistone, eh? Vedi, comunque un passettino più avanti, un passettino più avanti, un passettino più avanti, sento un po' più avanti, un po' più avanti, ok? E basta così, ok? Poi c'è un... Assolutamente un po' più avanti. Non sento le mani del pubblico! Non sento le mani del pubblico! Magli altri fai e ricorda, i malo ragù, ti fanno il meglio, vetti che ne mangio, da poco, poi, le mani del bella di manabina, con la tua capitale, di mal di medicina, più sensazionale, tanto ci rimedi a me, su conservo e평pio, al posto le casocar, di soffi. Vergli ovversi a Cantare, il canale vap., Vai, vai, vai! Pronti? Che bravissime la palla. E noi ce la cantiamo come Precarlo, Rumorra a Sanremo. vuoi sentire l'uno del pubblico nei nostri bimbi, pronti? 3, 2, 1 sono stupidi pronti come ritornello? pronti? 1, 2, 3 si cassa se me lo chiedete per favore se mi chiedete tu lo pulirò ma si, ma dai e ti c'è l'arte a noi sono le tagliatelle di mamma bina un fiero che ne è in giro guarda male, tutti insieme, guarda male, guarda male mangiate il fanno e scola la vu guarda tu ti fanno il fiero, queste fanno e anche tu un po' poi tagliatelle di mamma bina con un po' poi ti faccio diretti in medicina se mi chiedete a me su un buon e il cartantino al corso del caffè prima di tagliatelle di mamma bina tutti i rossi vengono male, tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme, vengono male se mi chiedete a me su un buon e il cartantino al corso del caffè se mi chiedete a me e poi tagliatelle di mamma bina ci vengono la via a tagliatelle di mamma ragazzi un applauso enorme ragazzi siete bravissimi, bellissimi chissà quanta emozione, è vero? siete felicissimi? chissà la mamma e il papà potete chiedere quello che volete adesso la mamma e il papà se avete un regalo chiedete là ci sono i genitori facciamogli un applauso ecco, ecco coloro coloro che cosa vuoi dire la mamma? ragazzi io mi sono sciolto facciamo una foto fate una foto ragazzi io mi sono sciolto con mi voglio tanto bene avete sentito? è in partita la domanda non ho detto niente ci ha pensato un attimino ha detto no la Barbie gliela chiedo dopo che ti voglio che belliche sono bravi tutti sulle mani alzate bravi 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 adesso vi facciamo un'altra ancora aspettate voglio che io posso fare una foto con voi perché siete talmente belli che adesso poi ho fatto lo giro del mondo venga insieme vado a loro venga facciamo insieme pronti ragazzi? il 10 dalla Cina quindi dobbiamo continuare ancora per il giro per il mondo? eh sì per forza ragazzi allora prossima etapa a parte del festival brava? eh prossimamente andremo a dicembre torneremo in Cina e poi avremo una serie di concerti in Italia dove finalmente canteremo insieme alla nostra patria che ci invita e ci vuole sempre tanto bene ragazzi applauso noi vogliamo sentire cantare in tutta Italia perché siete fantastici meritati dovete venire perché guardate il pubblico il calendario è ancora definito definito se è stata vaga è che non è definito definito ma appena avremo definito il primo allora sei tu oh bene sono molto contento di essere il primo a sapere questo calendario però di tutto anche per venire di a trovare e chiaramente per tutto il mondo soprattutto l'Italia saprà esattamente dove sarete quando sarete e il repertorio sarà una sorpresa perché ci piace tenerlo come una sorpresa e un saluto lo faccio chiaramente a tutti i genitori che dovranno seguire tutto il tour e io ho fantastici bimbi facciamo una foto insieme e concipa tre ci abbassiamo giù pronti sulle mani ragazzi sulle mani sulle mani tutti sulle mani dieci 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 ah ceci voi dite voi dite ceci perché dicendo ceci rimane un sorriso ah ma aspetta vogliamo fare una foto al pubblico provate voi se voi dite ceci in automatico provate a farlo leviamo la musica un secondo grazie Umberto pubblico pronti 3 2 1 ceci tutti con il sorriso ragazzi bocca al lupo per stasera tirate giù l'ariston fate sentire quanto siete bravi un applauso grazie ciao a dopo buon festival manca lei anche la mamma ha detto che ti vuole bene vai tranquillo vatti 5 ciao